Ehi accosso, saluti, volevo sapere le notizie, se le notizie l'ho ricevuta, ma stavo pensando di farti un regalo, stavo già pensando al Natale, volevo farti un berrettino, e il freddo, avevo pensato alla misura, ma che misura hai di testa accosso? Stavo guardando, guarda 5, amore, ma secondo te cosso, che misura avrà di testa cosso, volevo fare un berrettino di lanna, saluti cosso.